Fermato in A4 nel territorio di Pianiga, il furgone di una coppia di cittadini slovacchi che dal loro paese si stavano dirigendo verso la Spagna con 121 cuccioli di cane e alcuni gattini. Gli animali dovevano essere venduti illegalmente. Ammassati in un piccolo spazio, due dei cuccioli hanno rischiato la morte per soffocamento. I contrabbandieri erano da tempo nel mirino dell'ente italiano Tutela Animali e Legalità, che li stava sorvegliando da oltre sei mesi e li seguiva fino al casello di Trieste, avvertendo poi la polizia stradale. Grazie.